benvenuti sempre in google drive videorepetizioni.com vediamo il foglio di lavoro in google drive, excel siamo arrivati all'opzione dei vari formati e abbiamo iniziato a vedere formati arrotondati formati con numeri decimali, formati scientifici formati di valuta, volendo se ad esempio di questi 1000 che non sappiamo cosa sono invece che euro vogliamo mettere un'altra valuta basta andare su altri formati e cliccare sotto gli euro altre valute come vedete abbiamo naturalmente google molto internazionale quindi mi fido di google e sicuramente avremo la maggior parte delle valute di nostro interesse anche la sterlina, anche il real, il dollaro eccolo qua, l'euro, il bat tailandese chi più ne ha più ne metta, se magari non trovate qualcosa fatecelo sapere che lo segnaleremo ma siamo più che sicuri che ci siano tutte le valute anche le percentuali arrotondate oppure no formati data, formati orario come vedete e ancora altri formati per la data e per l'orario quindi andiamo avanti possiamo decidere anche la dimensione di una scritta con questo pt la dimensione del carattere ad ora ad esempio se selezioniamo questo 1000 così bello in grassetto è di un carattere 18 ad esempio se scriviamo all'interno della nostra cella colonna e riga 17 quindi è la nostra cella e 17 se scriviamo un numero ditemelo voi facciamo un numero 69 clicchiamo mettiamo su formato ad ora di default quindi standard Google Drive ce lo carica con un formato di 10 volendolo possiamo rimpiccolire fino a un 6 vedete, 69 si vede poco o selezionandocelo di nuovo possiamo aumentarlo fino a un formato 36 che inizia a essere veramente grande 24 ad esempio possiamo mettere un 12 e via dicendo quindi a voi la scelta mettiamo un 18 quindi un formato abbastanza grande rispetto al 10 standard questa B che in inglese sta per Bold e il cui tasto rapido è Ctrl B serve per mettere in grassetto ovvero in una scritta un po' più pronunciata più nera come vedete più scura vedete senza grassetto si vede sottile con il grassetto si vede un po' più pronunciato questo 69 lasciamolo in grassetto mentre quest'altro simbolo serve per barrare ovvero come vedete per cancellare tra virgolette una determinata scrittura supponiamo magari lo facciamo vedere meglio qua di scrivere ciao mondo come ve la spassate ecco scriviamo questa frase magari se ce la barriamo come vedete risulta cancellata magari serve pure per fare una checklist ovvero una lista di cose da fare man mano che le facciamo sulla nostra tabellina le potremmo scancellare in questo modo così ne teniamo traccia ma magari fra una settimana quando lo andiamo a leggere dal nostro ufficio a Milano chi lo sa oppure magari dal nostro telefonino mentre stiamo in autobus che torniamo a casa dal lavoro abbiamo visto che questa determinata azione l'abbiamo fatta e quindi man mano ce la scancelliamo mentre quindi abbiamo visto il grassetto abbiamo visto il formato la tipologia di formato la dimensione del carattere grassetto barrato il cui tasto rapido facilissimo è alt shift 5 alt maiuscolo maiuscolo sarebbe con la freccia grande all'estrema sinistra della vostra tastiera verso l'alto e 5 un numeretto e vediamo il colore il colore del testo basta cliccare qua selezionarci un testo a nostro piacimento e sceglierci il colore di nostro gusto ad esempio un blu un blu grassetto barrato ecco le ha tutte o ad esempio un rosso magari per un titolo un nero e chi più ne ha più ne metta varie scale di grigio come vedete ci stanno varie tonalità un po' più smorti trasparenti ad esempio questo non si vede quasi per niente e un po' più forti come questo marrone vedete con il pennarello scusate con il pennello più che pennarello con il pennello cinghiale possiamo copiarci il formato dove vogliamo e naturalmente se il formato è barrato cioè scancellato con questa brutale riga sopra come vedete anche qua sulla scritta prova di stampa ci trasporta pure il barrato quindi attenzione con il pennello perché ci trasporta tutto quello che copiamo del formato beh naturalmente basta ricliccare sul barrato per toglierlo quindi giocateci e fate qualche prova la cosa carina che ci tengo a sottolineare è che ogni volta che facciamo qualcosa Google Drive tempo 2 o al massimo 3 secondi salva le modifiche per tornare indietro quindi in questo caso per cancellare quindi barrare la scritta di stampa basta premere questa freccetta e come vedete ritorna indietro di un passo quindi man mano giocando con tutte queste varie opzioni non solo in Google Drive foglio di lavoro o foglio di calcolo chiamatevelo come vi pare insomma in Excel per capirci ma anche in Word e in PowerPoint è grosso modo come avete già visto nelle video ripetizioni passate grossomodo è la stessa cosa quindi che dire andiamo avanti con il colore di sfondo ecco queste due A non si sa perché le chiamano A comunque sono dei colori mentre la prima è il colore del testo quest'altra è il colore dello sfondo del testo ovvero questo numero molto bello 69 l'abbiamo deciso nero volendo lo possiamo fare rosso e volendo possiamo scegliere lo sfondo per questo numero giallo giallo rosso della Roma oppure magari non me ne vogliono i laziali blu e con lo sfondo bianco anzi il numero bianco questo questo è lo sfondo del numero di conseguenza che cosa abbiamo fatto il colore del testo ce lo rimettiamo blu vedete e lo sfondo del numero quindi del testo lo mettiamo bianco quindi basta giocare con il colore del testo nero e con lo sfondo del testo naturalmente sempre della cella vi ricordate il concetto di cella l'incrocio fra la colonna e la riga battaglia navale e lo sfondo della cella selezionata mettiamocelo giallo analogamente se selezioniamo un'area di lavoro quindi composta da più celle come vedete possiamo giocare con il suo sfondo magari metterla di sfondo verde fosforescente sembra brutale ma magari potrebbe essere un'evidenziazione necessaria per evidenziare qualche parola sicuramente più importante delle tre cavolate che abbiamo scritto di prova naturalmente poi più avanti faremo un esercizio più serio ad esempio potremmo scegliere questo colore rosa e via dicendo comunque abbiamo fatto varie prove siamo arrivati anche al colore dello sfondo del testo vediamo a questo punto come gestire una tabella in questo caso andiamo sul nostro foglio di lavoro 3 un foglio nuovo come vedete ce lo carica quindi nel primo foglio contabilità abbiamo fatto qualche prova dove abbiamo spiegato qualche video tutorial video ripetizione precedente i concetti di celle colonne e righe qui su budget che in realtà più che budget tasto destro rinominiamolo in prove varie perché non era un budget scusate la maiuscola ok abbiamo fatto appunto delle prove varie prove di formato copia formato valori e roba varia nel foglio 3 che tasto destro rinomina ce lo rinominiamo come tabella anzi prova di tabella e premiamo ok e quindi come avete sicuramente intuito spero faremo una prova di tabella perché questo bottoncino serve per mettere i bordi alle nostre celle che vuol dire nel caso pratico se andiamo a stampare questo foglio di lavoro guardate clicchiamo sull'icona stampa anzi più che stampare cerchiamo di vederci un'anteprima di stampa in teoria dovrebbe essere qua ovvero file ci dovrebbe essere la nostra voce visualizza la nostra voce anteprima di stampa vediamo se riusciamo a trovarlo impostazioni scarica come vediamo stampa proviamo a vedere se c'è l'anteprima di stampa non la troviamo comunque possiamo fare tranquillamente un pdf e farvi vedere che dove è l'anteprima di stampa formato vi volevo far vedere che queste celle nel caso in cui le andiamo a stampare in realtà sono sul foglio sullo schermo del nostro computer ma quando le andiamo a stampare è tutto bianco vi faccio un pdf quindi proviamo a fare a stampare il foglio di lavoro corrente la dimensione la lasciamo normale clicchiamo ok e come stampante sul mio portatile avevo già impostato il pdf quindi diciamo agrobat reader se apriamo vedete qua in basso il pdf per chi non sa cosa sia agrobat reader è un altro standard un altro documento come vedete il foglio è totalmente bianco vedete sta caricando il nostro computer perché le stiamo facendo veramente tante insieme ma quello che ci interessava è vedere che le celle riportate in excel vedete adesso si è pure sbloccato non ci sono più questo non è altro che la simulazione di un foglio appena stampato di carta perché vediamo in excel vedete qui ci sono le celle quindi c'è tutta questa bella griglia se andiamo sul nostro foglio di carta supponiamo di averlo stampato è bianco chiudiamolo perché proprio per questo servono i bordi i bordi che cosa sono selezioniamoci un'area di lavoro clicchiamo su bordi vedete abbiamo varie opzioni di bordi mettiamo questa che ha tutti i bordi si chiama abbiamo messo dei bordi alle nostre celle al nostro insieme di celle che vuol dire ve lo faccio vedere subito vi ricordate il foglio di prima appariva bianco se ce lo andiamo a stampare di carta e facciamo ok ok questo file può danneggiare il computer non lo danneggia ce lo apriamo vedete adesso ci ha evidenziato le celle come vedete il foglio è bianco tranne che per l'area di lavoro per la quale abbiamo applicato i bordi quindi applicare i bordi in questo caso a delle celle a un insieme di celle nel nostro foglio di lavoro excel significa applicare i bordi significa stampare diciamo la cornice quindi i bordi di tutte le celle da noi selezionate per applicare i bordi a tutto il nostro foglio di lavoro excel basta selezionarci la nostra area di nostro interesse e cliccare bordi tutti i bordi nella prossima video ripetizione lidicheremo un po' con i bordi lidicheremo per modo di dire in realtà seguendo la 5 o 6 minuti è semplicissimo imparerete senza problemi quindi per ora vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo nella prossima video ripetizione sempre per google drive excel ciao a tutti e buona giornata vi ringrazio per l'ascolto